Una bella restituzione e va nel segno delle cose che vogliamo sentirci dire in questo periodo, la propria volontà di mettere in moto questa nostra bellissima regione nei suoi punti di forza, come sicuramente la narrazione che sta attorno a Recanati, quindi bello, importante per questa località, bello, importante per la regione, in particolar modo in questo segno di ripartenza che stiamo tutti quando vivendo con grande passione e grande interesse. Oggi c'è tanta partecipazione e questo è probabilmente il segnale più importante che si poteva ottenere. Sì, perché è uno spirito che condividiamo tutti, al di là di come la pensa ognuno, è evidente che tutti quanti ci sentiamo dentro questa grande missione, la presenza segna questa capacità che abbiamo avuto nei momenti complicati di stare insieme, ma che continua nel momento in cui dobbiamo ripartire.